Os 2023 continua, ci troviamo allo stand di la Gise Caffè, un'azienda di nuova concezione e ne parliamo con due delle persone che sono a capo del progetto, Andrea Palmieri, buongiorno Andrea buongiorno e Giacomo Neri, buongiorno Giacomo buongiorno e allora abbiamo 5 minuti, 2 e mezzo ciascuno per raccontare intanto il progetto di Gise Caffè grazie, Gise Caffè nasce a metà del 2022 da un'esperienza di oltre 40 anni nel settore si chiama Gise Caffè Technology proprio perché applichiamo la tecnologia per realizzare il prodotto caffè siamo, nonostante le radici arrivino veramente da lontano nel tempo, quindi oltre 40 anni siamo fortemente appassionati, siamo una squadra molto giovane e crediamo anche in tutta quanta l'innovazione del prodotto il sistema Gise Caffè è un nuovo sistema, quindi è qualcosa di nuovo sul mercato che parte da una realizzazione e prototipazione di capsula, quindi nuova capsula da caffè e anche macchina da caffè è un progetto 100% made in Italy sia per quanto riguarda la progettazione e prototipazione ma anche realizzazione sia di capsule che di macchina da caffè le capsule nello specifico vengono prodotte nei due stabilimenti produttivi nel cuore dell'Appennino Bolognese a Gaggio Montano mentre le macchine al momento in Lombardia i prodotti che abbiamo lanciato di Gise Caffè sono 8 differenti tipologie di caffè tutta quanta l'ispirazione dei prodotti deriva dalla rosa dei venti a sud abbiamo i prodotti venti che quindi sono i prodotti più forti con un percentuale di robusta più elevata, tostature scure, note aromatiche più intense al centro abbiamo rispettivamente est e ovest abbiamo un marino decaffeinato e un levante, un prodotto molto particolare a 5 origini e al nord abbiamo invece i venti quelli un pochino più soavi, un pochino più delicati con i tre venti che rappresentano la gamma prodotto grecale 100% arabica, zefiro 100% arabica e maestrale invece arabica e robusta il nostro sistema è un sistema innovativo soprattutto per quanto riguarda l'estrazione grazie a questo sistema riusciamo a estrarre molto molto intensamente il valore di TDS quindi i solidi disciolti nel liquido è decisamente superiore ai competitor sul mercato e questo ne consegue che il caffè risulta molto cremoso e molto intenso a corredo degli 8 caffè abbiamo anche 10 bevande calde da bevande più classiche come mocaccino, cappuccino fino a bevande più particolari, mirtillo, melograno, zenzero, limone e un orzo che ha la caratteristica di essere a base di orzo tostate macinate e quindi di ricordare un po' quello che è il gusto dell'orzo e della preparazione della nonna che è quello che garantiva il profumo all'interno della nostra casa insomma, tanta roba Andrea tanta, veramente tantissima roba tanto è già pronto, disponibile sul mercato e tante invece sono le novità che arriveranno nel 2024 che presentiamo oggi in fiera sei stato rapidissimo, perfetto direi per i nostri tempi e dunque Giacomo è il tuo turno grazie, grazie per quanto riguarda il branding abbiamo deciso di raccontare appunto come diceva Andrea la nostra azienda e i nostri prodotti tramite la Rosa dei Venti e per fare questo e arricchire diciamo l'esperienza abbiamo anche deciso di abbinarci e collaborare con alcuni importanti marchi italiani tra cui Baratti e Milano per abbinare un prodotto di alta qualità italiana ai nostri che appunto sono entrambi prodotti in Italia e progettati in Italia per quanto riguarda invece come altre novità presenti sul mercato abbiamo oltre ai solubili delle bevande per la linea benessere ossia dei prodotti in foglia anch'essi probabilmente con una collaborazione con importanti marchi italiani dove andiamo a offrire quindi una bevanda naturale e diciamo benessere appunto in foglia e in capsula e quindi una tisana a casa per qualsiasi momento e allora per chiunque desideri avere maggiori informazioni e entrare a far parte del team per il vostro progetto o magari aderire alla vostra proposta qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? info.gisecaffè.it oppure andare sul nostro sito dove si possano trovare tutte le informazioni ah perfetto, dallo stand di Gise Caffè è tutto OS 2023, continua